5 parole che almeno una volta nella vita hai sbagliato a scrivere e forse sbagli ancora a scrivere perché sei uno smandrappato. Con l'utorio si scrive con una sola T, se non c'è credi metti pausa e corri in bagno, corri corri. L'aggettivo entusiasta è unisex, non va accordato anche un omone può essere entusiasta, lui è entusiasta, lei è entusiasta, insomma resta sempre così. Accelerare si scrive con due C ma soprattutto con una sola L, con una sola L mi raccomando. Soprattutto si scrive con 4T, una volta si scriveva con 3T, oggi ce ne vogliono 4, pensate un po'. Ultima, aeroplano si scrive così, alcuni sbagliano perché credono che aereo sia l'abbreviazione di aeroplano, in realtà non è così, sono due parole distinte che hanno origini diverse. Chiaro o no?